Ciao a tutti e bentornati a Pidole di Storia, bentornati alla nostra serie Imperatorese, con cui una puntata ciascuno cerchiamo di raccontare la storia degli imperatori romani e attraverso le loro grandezze, le loro debolezze, i loro errori, i loro vizi, le loro virtù cerchiamo di raccontare la storia di uno degli imperi più grandi e iconici che l'umanità abbia mai conosciuto. La puntata di oggi è dedicata a un imperatore che sono certo conoscerete tutti, assolutamente tutti, anche solo perché è stato protagonista di una miriade di libri e addirittura di molti film. Sto parlando di Marco Aurelio, immagino tutti abbiati in mente, quantomeno per l'inizio del gladiatore. Marco Aurelio, come vedremo, è uno di quegli imperatori che allo stesso tempo è facile da raccontare perché abbiamo molte informazioni su di lui, ma molto difficile da tratteggiare. È stato definito in mille modi diversi, l'imperatore filosofo, il grande imperatore, l'uomo pacifista, l'imperatore pacifista costretto alla guerra, uno degli ultimi grandi imperatori, tant'è che venne messo come quinto e ultimo dei buoni imperatori, da una storiografia di una volta per così dire. Insomma, un imperatore di cui è stato detto e scritto molto, perché in lui albergano veramente molte anime diverse che oggi cercheremo di raccontare. La puntata di oggi, come vedremo, sarà lunga e complessa e per comprenderla appieno vi consiglierei di aver visto le due puntate precedenti, quella dedicata ad Antonino Pio ma soprattutto quella dedicata a Lucio Vero che era il fratellastro di Marco Aurelio e che con lui regnerà nei primi anni di regno. Perché ovviamente quella parte di storia non la riracconterò ma andremo avanti proprio da lì. Dopo la sigla partiamo a raccontare Marco Aurelio. Perché vi dicevo che abbiamo tante fonti su Marco Aurelio? Perché in effetti così, ne abbiamo veramente tantissime. Abbiamo delle epigrafi, abbiamo opere storiche latine, l'istoria Augusta, di cui vi ho detto già tutto il male nella puntata precedente, ma che pare che su Marco Aurelio quantomeno fosse abbastanza realistica nel raccontare gli eventi. Non così oggettiva, ma non importa. Abbiamo opere di Cassio Dione, che parlano di Marco Aurelio, ma soprattutto, a differenza di molti altri imperatori, abbiamo delle opere scritte di suo pugno. Abbiamo delle lettere, ma soprattutto abbiamo i Colloqui con se stesso, che è un'opera incredibile che sia arrivata fino ad oggi, che è un libro che Marco Aurelio scrisse nei suoi ultimi anni di vita, in cui ragionava letteralmente con se stesso, io me lo immagino lungo le frontiere della Germania, dove tra poco racconteremo, si recò in quegli anni a combattere contro i barbari, ragionando con se stesso del suo passato, della sua storia, della filosofia, del mondo, dell'impero, insomma, trasferendoci attraverso quest'opera i suoi pensieri. Una cosa che, se dal punto di vista storico, lascia un po' il tempo che trova, anche perché pur raccontandoci episodi del passato, molto spesso non li posiziona esattamente dal punto di vista cronologico, sono difficili da inquadrare se realtà o fantasia, ma è incredibile il mondo personale, il mondo intimo di Marco Aurelio che ci trasmettono e che ci permettono di capire molto della sua inquietudine e forse anche di interpretare in maniera diversa certe sue scelte. Marco Aurelio nacque il 26 aprile del 121 d.C., figlio di Marco Annio Vero, nipote di Marco Annio Vero, bisnipote di, ci avete preso, Marco Annio Vero. La sua famiglia è originaria della Spagna e con i suoi ultimi antenati, quelli che vi ho nominato, aveva progressivamente scalato il cursus onorum romano. Il bisnonno era stato il primo ad acquisire titoli di una certa importanza, il nonno, ancora vivente, quando Marco Aurelio era giovane, era stato il primo a raggiungere il grado di console, e il padre, fino al 124, quando morì, quando Marco Aurelio aveva solamente tre anni, ne stava seguendo le orme. Alla sua morte, Marco Aurelio si ritrovò ricco, in una famiglia potente, ma anche ovviamente orfano, e per questo sarà portato nella casa del nonno, che all'epoca era ancora un politico rampante, continuava a ricoprire delle cariche, tra cui appunto quella di console, un politico che decise di fare di Marco il suo successore, e che per questo iniziò a prepararlo fin da bambino, dandogli i migliori precettori, che all'epoca voleva dire i migliori precettori greci, e portandolo ad una serie di studi che andavano dalla retorica, l'arte dell'avvocatura, insomma la giurisprudenza, ce l'ho fatta, ma anche la filosofia. Tra tutti questi studi, Marco fin da giovanissimo si appassionò proprio a quest'ultimo, si appassionò alla filosofia, e dopo un lungo percorso di studi, fatto attraverso vari precettori, decise che la filosofia più vicina al suo modo di pensare era quella stoica, una morale, quella stoica che a tutti gli effetti lo accompagnerà per tutta la vita, e che sotto un certo punto di vista ci permette anche meglio di capire le motivazioni che lo spinsero ad agire in certi frangenti. Come arrivò però Marco Aurelio a diventare un possibile successore dell'imperatore? Beh, un po' qualcosa vi ho già raccontato. Sapete che Adriano, che a quanto pare teneva in gran conto questo giovane, quando si sentì vicino alla morte, decise di nominare un successore. Il primo possibile successore, come vi ho già raccontato più volte, era Lucio Eglio Vero, la cui figlia venne promessa in sposa, un fidanziamento che era ancora troppo piccola, proprio a Marco Aurelio. Purtroppo Lucio Eglio Vero morì, e dopo la sua morte venne nominato come suo successore Antonino Pio, a patto che prendesse come propri figli adottivi, Antonino aveva due figli maschi che però erano già morti, prendesse come figli adottivi proprio Marco Aurelio, che all'epoca aveva 17 anni, e Lucio Vero, cioè il piccolo figlio di Lucio Eglio Vero, che era morto. Quando però, nel 138 d.C., morì Adriano e Antonino Pio gli successo al trono, pur trovandosi a avere due figli adottivi, quindi potenzialmente a poterne seguire la crescita di entrambi, forse per affinità, non lo sappiamo, forse semplicemente perché dei due erano più grandi, decise che quello su cui avrebbe puntato maggiormente sarebbe stato proprio Marco Aurelio. Tanto da convincerlo, non solo a lasciare la figlia di Lucio Eglio Vero, quindi la sorella di Lucio Vero, il suo fratellastro, ma anche di fidanzarsi con Faustina, che era la figlia di Antonino Pio, e che fino a quel momento era stata promessa in sposa a Lucio Vero. Insomma, Antonino Pio fece rompere entrambi i fidanzamenti dei suoi figliastri, e diede in sposa la propria figlia, proprio Marco Aurelio, quasi a indicare che quello, almeno nelle sue intenzioni, sarebbe dovuto essere il suo vero e unico successore. In effetti Marco Aurelio, fin dall'inizio, iniziò a seguire il cursus honorum. Fu nominato questore giovanissimo, ad appena 19 anni, quando ancora teoricamente era impossibile raggiungere una carica del genere per età, e molto rapidamente scalò fino a diventare console. A questa attività politica personale, iniziò ad affiancare una lunga attività politica proprio a fianco del patrigno di Antonino Pio, il quale letteralmente si portava sempre con sé Marco Aurelio, che lentamente iniziò ad entrare all'interno dei meccanismi del potere romano. Di questo periodo, abbiamo molti resoconti proprio nelle sue lettere. Marco Aurelio ci fa un quadro non così positivo della sua esperienza. Dirà più volte che nel suo affiancare Antonino Pio i suoi compiti erano semplicemente di facciata, era praticamente un segretario, un uomo che talvolta sostituiva l'imperatore quando questi aveva di meglio da fare o era impegnato altrove, ma che in generale i suoi compiti erano molto scarsi. Quando invece si trattava delle sue cariche personali, soprattutto della carica di console, pare che si buttasse letteralmente a pesce, tanto che sempre in queste stesse lettere ci racconta le difficoltà di dover seguire quei compiti, giovane com'era, ma soprattutto la fatica e la stanchezza che gli portavano e il fatto di doversi in questo modo allontanare dai suoi amati studi. Studi che in effetti continuerà per tutta la vita, considerando la filosofia e lo studio proprio uno dei suoi maggiori diletti, come vi ho detto prima, insieme alla scrittura. Notate peraltro che Marco Aurelio avrà un'impronta talmente forte da quei precettori che tutte le sue opere le scriverà in greco, non in latino, le scriverà in greco, che probabilmente lui, come altri, consideravano la vera lingua dei dotti al posto proprio del latino. Nel 145, una volta che Faustina ebbe raggiunto un'età adatta, i due si sposarono. Avete notato una cosa? Erano teoricamente fratelli. Faustina era figlia di sangue di Antonino Pio, Marco Aurelio era figlio adottivo, tanto che come voleva la legge allora, Antonino Pio, per permettere il matrimonio, fu costretto a rinunciare alla patria potestà su uno dei due. E chi scelse? Ovviamente Faustina, che dei due era quella che probabilmente gli importava meno. Sarà un lungo matrimonio tra i due, un lunghissimo matrimonio, che avrà purtroppo una coda tragica, ne parleremo alla fine, ma anche se pare che Marco Aurelio non fosse particolarmente affezionato alla moglie, nelle sue opere, nelle sue lettere, non ne fa praticamente quasi mai menzione, i due ebbero realmente tantissimi figli, 14 figli, un numero gigantesco, di cui però purtroppo la stragrande maggioranza morì prima del padre. Siamo d'altronde, chiedo scusa, in un'epoca in cui la mortalità infantile era altissima, per malattie e problemi vari, anche quando si era figli dell'imperatore. Aggiungetevi che di questi figli, due furono le coppie di gemelli, che quindi di solito nascevano prematuri, sotto peso, con mille altri problemi, capirete perché, molti di questi purtroppo moriranno. Nel 160 d.C., Antonino Pio, che probabilmente sentiva prossima ormai la morte, decise di nominare i suoi due figliastri come consoli insieme, e fu una scelta corretta, perché l'anno successivo, nel 161, Antonino probabilmente, dopo un'indigestione, morì. Su cosa successe dopo, ci sono due versioni. Alcuni autori latini, infatti, indicano che Antonino Pio avrebbe scelto, come suo successore, Marco Aurelio, tanto che, in punto di morte, avrebbe chiesto a un soldato di Portagli, una statua ad oro della Concordia, che teneva con sé in camera. E sarebbe stato proprio Marco Aurelio, invece, recato sin senato, a indicare espressamente che non avrebbe regnato da solo, ma avrebbe regnato insieme al fratellastro. Questa versione, però, è molto poco creduta dagli storici attuali, perché sembra del tutto assurda, dato che non solo erano stati nominati entrambi i consoli, ma negli anni precedenti entrambi avevano acquisito tutta una serie di poteri, ovviamente con il beneplacito di Antonino Pio, che non avrebbe avuto nessun senso che si avesse dato questi poteri anche a Lucio Vero, volendone invece poi privare di qualunque potere, non facendolo diventare imperatore. Una volta salito al potere, il rapporto tra i due, che in effetti, nonostante fossero fratellastri, pare fosse abbastanza stretto, sarà ulteriormente cementato anche per motivi familiari, perché Marco Aurelio farà sposare la figlia Lucilla proprio a Lucio Vero, o meglio, la farà fidanzare nel 161, e noi due si sposeranno nel 163-164 una volta che Lucilla avrà raggiunto la maggior età. Da matrimonio nasceranno tre figli che però moriranno tutti e tre molto giovani. Sistemata questa questione, i due si spartirono il potere. Lo fecero in realtà in maniera del tutto ineguale, perché a tutti gli effetti, e su questo gli autori sembrano abbastanza essere concordi, chi deteneva realmente il potere, quantomeno dal punto di vista amministrativo, era proprio Marco Aurelio, che in effetti, fin dai primissimi anni di regno, impresse una decisa impronta alla sua azione di governo. Innanzitutto, così come avevano fatto altri imperatori del passato, pensate ad esempio Traiano, o Anerva, fu uno degli imperatori che decise di governare in pieno accordo col Senato. Vi ricordate, c'erano stati vari rapporti col Senato. Dopo Traiano, Adriano era stato in rapporti pessimi col Senato, aveva centrato su di sé il potere. Antonino Pio aveva finto di restituire il potere al Senato, ma in realtà aveva continuato a governare direttamente l'impero. Ecco, Marco Aurelio, invece, rispetta la volontà dei suoi predecessori. Restituisce il potere al Senato, gli restituisce un potere anche decisionale sulla cosa pubblica, e promette, e in effetti farà così, di accettarne le decisioni, ponendosi un po' come facevano Augusto, appunto, Traiano, Nerva, come un primo tra tutti i senatori, piuttosto che come un sovrano al di sopra di tutti. Nonostante questo, alcune riforme che verranno attuate durante il suo lungo impero hanno assolutamente la sua impronta, e molto probabilmente andarono anche contro la volontà di alcuni senatori. Ad esempio, ci furono tutta una serie di riforme per cercare di migliorare le condizioni degli schiavi, i quali non potevano più essere venduti per i giochi gladiatori contro le belve, avevano tutta una serie di libertà, tra cui la possibilità di salvarsi qualora fossero riusciti a fuggire e si fossero rifugiati in un tempio sotto una stato dell'imperatore che avrebbe dato loro protezione, il divieto di applicare la pena di morte, questo non riguardava gli schiavi, ma il divieto di applicare la pena di morte contro i cittadini liberi, tutta una serie di rivoluzioni dal punto di vista giuridico che sicuramente si scontrarono con una parte della nobiltà senatoriale che in effetti con le politiche degli ultimi anni, soprattutto quelle degli vari Antonini, avevano visto progressivamente diminuire la massa degli schiavi con il rischio che questo potesse danneggiare i loro guadagni economici. Non furono questi gli unici interventi che fece. Uno dei più importanti fu quello di stabilizzare il gigantesco apparato burocratico, apparato burocratico che era cresciuto negli anni, aveva assicurato la stabilità dell'impero anche con tutti i cambiamenti di imperatori ed era diventato quasi un apparato a sé stante che sarà regolamentato proprio da Marco Aurelio, il quale peraltro fondò anche la prima anagrafa tra cui tutti i cittadini romani dovevano iscrivere i propri figli una volta che fossero nati. Qualcosa di moderno, qualcosa che cresce perché l'impero romano come sapete non è stato un gigantesco monolite ma ha continuato ad evolvere insieme al suo diritto ed è uno dei motivi per cui quel diritto e quelle pratiche sono ancora la base del mondo che vediamo oggi. È possibile pensare che Marco Aurelio sarebbe potuto essere un grande imperatore pacifista un po' come era stato il patrigno Antonino Pio sarebbe potuto essere un imperatore che avrebbe puntato sulla crescita dell'impero sulla sua espansione e probabilmente alcuni interventi dei primi anni possono indicare con l'invio di l'aumento delle rotte dirette verso l'India secondo alcuni anche l'invio dell'ambasceria in Cina che secondo altri invece come vi ho raccontato anche qualche puntata fa sarebbe da imputare ad Antonino Pio una serie di interventi sfruttando anche le casse rimaste ben piene di denaro appunto dopo la morte di Antonino Pio interventi di ripristino di alcune situazioni in giro per l'impero la ricostruzione di alcune strade di acquedotti la riparazione di vari danni edifici che erano stati lasciati quasi un po' andare nel corso del tempo Marco Aurelio sarà un imperatore che più che costruire riparerà molto dell'impero sarebbe forse potuto essere un regno di ricchezza e invece come tutti sapete non per motivi dipendenti da lui ma il regno di Marco Aurelio sarà un regno di guerra un regno di guerra che inizierà fin da subito perché dopo la morte di Antonino Pio nel 161 l'impero si troverà preso attaccato da varie parti sarà attaccato in Britannia dove i pitti supereranno il vallo di Antonino come vi ho raccontato nella puntata dedicata a lui molto difficile da mantenere tanto che sarà proprio abbandonato e i soldati si ritireranno nuovamente al vallo di Adriano mi ero sbagliato in quella puntata avevo detto abbandonato durante il regno di Antonino Pio invece sarà abbandonato proprio nei primi anni di regno di Marco Aurelio e Lucio Vero ci saranno degli attacchi da parte dei pirati mauri verso la Spagna ci saranno degli attacchi dai popoli germanici ma di questo ne parleremo ma la prima vera grande minaccia come vi ho raccontato nella puntata su Lucio Vero sarà l'attacco da parte di Vologase IV di Persia che scatenò una lunga guerra che sarà combattuta non da Marco Aurelio che rimarrà a Roma ma bensì dal fratellastro Lucio Vero di quella guerra di cui vi ho già parlato nella puntata proprio dedicata a Lucio Vero vi rimando lì tornerà però indietro qualcosa torneranno indietro ricchezze dalla razzia fatta a Ctesinofonte e Seleucia ma da quella razzia verrà anche uno dei peggiori mali che colpì l'impero romano la cosiddetta Peste Antonina gli eserciti che tornavano indietro peraltro eserciti che tornavano rapidamente dall'est diretti verso il fronte danubiano e il fronte renano dove come tra poco vi racconterò avevano attaccato le tribù germaniche quelle truppe portavano con sé un male forse sconosciuto che all'epoca venne definito Peste la Peste anche di Galeno perché in questi anni operava il famosissimo medico anche a lui in passato dedicato una pidola ma che gli storici di oggi ritengono essere invece vaiolo e che continuerà a colpire l'impero non solo nel 165 166 quando inizieranno i primi focolai ma che lo continuerà a colpire per 30 anni indebolendolo dal punto di vista militare perché ovviamente ci saranno molte perdite tra i legionari indebolendolo dal punto di vista dello Stato a causa dei morti ma soprattutto indebolendolo dal punto di vista economico e demografico insomma rendendo un impero che fino a quel momento era stato un gigante che sembrava monolitico un gigante con i piedi d'argilla che Marco Aurelio dovrà cercare di aiutare a sopravvivere dal punto di vista militare ripartiamo proprio da qui nel 165 infatti come vi ho raccontato 165 166 si chiusero le campagne partiche con gli attacchi alla media che avevano fruttato la riconquista dell'Armenia la conquista della provincia di Mesopotamia e anche una serie di attacchi proprio alla zona della media la pace all'interno dell'impero però regnerà pochissimo perché quando le truppe stavano tornando ci furono i primi attacchi nel 166 inizio del 167 infatti una serie di popoli germanici tornarono a superare il Reno e il Danubio cosa era successo? beh qualcosa anche in Germania anche nelle terre al di là del Danubio stava cambiando dei popoli che fino a quel momento erano stati autonomi avevano sì talvolta superato la frontiera romana ma erano stati facilmente battuti o che in generale fino a quel momento vivevano quasi in pace sotto il dominio romano avevano iniziato ad unirsi fra loro a coalizzarsi in grandi alleanze spinte un po' dal contatto con i romani che aveva trasferito loro tecniche militari ma anche idee di governo dall'altra parte anche a causa della spinta che dei popoli germanici situati più a est probabilmente i goti stavano iniziando a dare conquistando le loro terre e spingendoli letteralmente verso occidente laddove i germani sfruttando la debolezza dell'impero che arriverà insieme alla peste Antonina cercarono di andarsi a stanziare come vi dicevo nel 166 167 ci fu il primo di questi attacchi che fu in effetti un attacco di dimensioni molto contenute si parla di circa 6.000 germani in massima parte peraltro Longobardi i quali attraversarono i territori dei dei marcomanni ed entrarono all'interno dell'impero venendone però sconfitti e costretti a tornare indietro nonostante la vittoria però la cosa non piacque particolarmente a Marco Aurelio il quale teoricamente contava proprio sui marcomanni e sui quadi che si trovavano un po' più a oriente grossomodo i marcomanni vivevano nell'attuale repubblica cieca i quadi nell'attuale repubblica slovacca alla grossa contava proprio su quei popoli per fermare eventuali invasioni proprio per questo andando peraltro incontro a fratellastro che stava ritornando dall'oriente gli andò incontro e si andarono a fermare nella fortezza legionaria di Carnuntum in Pannonia attualmente in Austria e da lì iniziarono a intraprendere contatti proprio con i marcomanni e i quadi dato che Marco Aurelio temeva che quel passaggio fosse semplicemente un attacco dimostrativo un saggiare le difese romane in previsione di un attacco più grande i quadi e i marcomanni però si affrettarono a negare tutto tornarono a giurare fedeltà a Roma dissero che era stato un errore che sarebbero stati pronti a rinunciare ai loro sovrani a farne nominare di nuovi da Roma se questo avesse voluto l'imperatore insomma fecero un totale atto di sottomissione che secondo quanto viene raccontato non convinse particolarmente Marco Aurelio ma pare che invece convincesse Lucio Vero il quale probabilmente era anche stanco di tutti quegli anni di guerra e voleva semplicemente tornare a Roma purtroppo per lui a Roma non ci arrivo mai perché come vi ho raccontato nella scorsa puntata morì probabilmente a causa di un ictus qualcuno parla di un infarto lasciando il trono proprio al fratello Marco Aurelio il quale farà raccogliere le sue ceneri le farà portare nel mausoleo di Adriano che stava diventando la tomba di tutti gli antonini e lo farà divinizzare come il divo Vero una volta rimasto unico imperatore però Marco Aurelio dovette comunque mettere da parte i suoi dubbi perché nello stesso anno nel 167 un'altra provincia stava subendo un attacco la Dacia la provincia che era stata conquistata da Traiano che era stata attaccata dai sarmati gli azigi i quali erano entrati nella provincia avevano sconfitto le forze del governatore che avevano anche ovviamente assassinato e avevano attaccato e razziato tutta la Dacia da lì minacciavano di superare il Danubio e di scendere nei territori della Mesia e poi verso la Cacia a questo punto Marco Aurelio decise di inviare il grosso delle sue truppe quelle di rientro dall'Oriente proprio nella zona della Dacia ma per poterlo fare fu costretto anche a causa della pandemia che stava letteralmente decimando le sue truppe a spostare altre legioni dal nord dal Reno mandandole sul Danubio e con quelle nel 169 attaccando i popoli sarmatici cacciandoli dalla Dacia e sconfiggendoli a più riprese costringendoli a tornare nel loro territorio molto probabilmente a questo punto Marco Aurelio aveva progettato proprio un attacco contro i sarmati per conquistarli o quantomeno impedire che potessero nuovamente attaccare in Dacia ma in questo continuo gioco di colpi a sud a nord a nord a sud mentre lui stava progettando questa nuova campagna contro i sarmati il nord il fronte del reno rimasto in parte scoperto sarà travolto da un attacco a guidare questo attacco erano ovviamente i marcomanni insieme ai quadri e tutta una serie di altri popoli i quali riunitisi in una gigantesca orda attraversarono lo sconfine sconfissero circa 20.000 romani e dilagarono verso sud presero Cornuntum e entrarono nella Venezia Giulia e giunsero a mettere sotto assedio Aquileia la minaccia ovviamente era gigantesca avere dei popoli germani all'interno dei confini dell'Italia quindi pronti a marciare verso il cuore dell'impero rischiava di far collassare tutta la sua difesa e quindi Marco Aurelio decise di fermare qualunque possibile attacco contro i sarmati e di inviare il grosso delle sue truppe al comando di Pertinace che un giorno sarà imperatore e di Claudio Pompeiano proprio a fermare l'avanzata dei germani chi era Claudio Pompeiano? beh era il suo nuovo genero l'uomo a cui aveva fatto sposare Lucilla una volta che era morto Lucio Vero e che per alcuni anni forse sarebbe potuto essere un suo potenziale successore fino a quando il figlio Commodo non avesse raggiunto la maggior età l'uomo che in effetti poi gli sarebbe succeduto come imperatore appunto Commodo Pertinace e Claudio Pompeiano fecero il loro dovere attaccarono i germani ad Aquileia riuscirono a scacciarli ricostringendoli a riattraversare le arpi e a ridirigersi verso la Germania letteralmente ripulirono tutta la zona e inseguirono le forze dei marcomanni e dei quadri fin nei loro territori accompagnati da altre forze inviate da Marco Aurelio nonostante questa vittoria però la situazione rimaneva complicata perché una volta che le truppe si furono allontanate dal Danubio per dirigersi verso il Reno tornarono ad attaccare i Sarmati i quali si riunirono riattraversarono il Danubio e letteralmente calarono verso la Grecia verso la Macedonia e verso la Grecia giungendo addirittura a razziare il santuario di Eleusi tornando indietro con un ricchissimo bottino dei due fronti Marco Aurelio sceglierà quello nord non avendo abbastanza truppe per poter inseguire i Sarmati cacciarli nuovamente fuori dalla Sarmatia e allo stesso tempo attaccare i Marco Manni deciderà che i due dei due quello più importante era quello nord anche perché apriva la porta verso l'Italia ma anche perché i Germani avevano iniziato a spingere anche su altri fronti più a nord infatti i Catti avevano cercato di attraversare il Reno ed erano stati respinti dalle forze di Didio Giuliano neanche a dirlo anche lui un giorno sarà imperatore riunite le sue truppe tra il 171 e il 174 condusse a distanza una lunga campagna proprio in Germania attaccherà i Marco Manni si spingerà fino ai territori dei Quadi in una lunghissima guerra in cui si combatteranno moltissime battaglie in cui l'esercito romano provato e ridotto nei ranghi nonostante la vittoria finale si troverà molte volte in grave difficoltà la vittoria non sarà definitiva e giungerà anche in seguito ad una serie di battaglie fortunose una delle più famose raccontata proprio da Marco Aurelio il quale ci racconta di questo momento in cui il suo esercito circa un migliaio di uomini si trovava ad essere quasi circondato dalle forze dei Quadi isolato rimasto senza acqua quando improvvisamente Giove Pluvio questo racconta lui gli scatenò addosso un vero torrente d'acqua che permise ai romani di dissetarsi ma che soprattutto travolse i Quadi una specie di pioggia miracolosa che alcuni autori cristiani dissero essere giunta da Dio ma che sappiamo che i romani all'epoca attribuivano invece a Giove Pluvio ad ogni modo la campagna tra il 171 e il 174 permise a Marco Aurelio di ripacificare la zona quantomeno ristabilizzarla anche se probabilmente progettò e in effetti condusso di lì a qualche anno nuove campagne nel tentativo di trasformare quella zona in una vera e propria provincia spostando così il confine ancora più a nord peraltro è stato trovato in Slovacchia una pietra che ci racconta proprio di uno scontro avvenuto in zona che è la prova della massima espansione verso nord nell'Europa centrale dell'impero romano che ci fu proprio sotto Marco Aurelio questi lunghi anni di guerra provarono moltissimo il fisico dell'imperatore tanto che tra il 185 e il 186 alcuni temevano che potesse morire da un momento all'altro mancando peraltro da molto tempo da Roma uno di coloro che temeva per questa sua possibile improvvisa morte era curiosamente la moglie la quale pare che in quegli stessi anni avesse preso contatto con un generale romano situato in oriente Avidio Cassio che se vi ricordate era stato uno dei generali che aveva comandato le truppe durante le campagne partiche di Lucio Vero la moglie di Marco Aurelio contattò Avidio Cassio e gli propose di prendere la porpora imperiale adottando però il figlio di Marco Aurelio cioè Combodo secondo alcuni fece tutto questo proprio perché temeva che qualora Marco Aurelio fosse morto troppo presto Combodo non avrebbe avuto abbastanza forze e soprattutto l'età per prendere il potere la scelta però sarà errata e anche se inizialmente Avidio Cassio riuscì a far sollevare tutte le regioni le regioni orientali venendo da loro nominato imperatore quando si sparse la notizia che Marco Aurelio si era ripreso dalla malattia e stava nuovamente bene le regioni si rifiutarono di seguire il nuovo imperatore e uno dei legionari uno dei centurioni fedeli proprio a Marco Aurelio uccise lo stesso Avidio Cassio questa rivolta però costringerà Marco Aurelio ad un lungo viaggio in Oriente quando sembrava pronto per la campagna definitiva contro i Sarmati sarà invece costretto ad abbandonare la zona del Danubio per spostarsi in Oriente compiendo un lungo viaggio che lo porterà in varie città probabilmente per controllarne la fedeltà lo porterà a contatto con quelle regioni che si erano prima ribellate e poi nuovamente schierate con lui cercando di rinsaldare la parte orientale dell'impero riunendo così le sue forze in questi anni morirà anche la moglie Faustina si dice di morte naturale anche se non tutti gli storici sono concordi qualcuno infatti dice che potrebbe essersi suicidata forse per la vergogna di aver appoggiato la rivolta di Avidio Classo qualcuno dice che Cassio chiedo scusa qualcuno dice che invece sarebbe potuta essere stata uccisa proprio da Marco Aurelio come forma di punizione anche se in effetti dopo la sua morte sarà divinizzata e questo non sembra andare molto d'accordo con questa teoria secondo altri pensate sarebbe invece addirittura morta di parto cercando a 45 anni di dare la luce il quindicesimo figlio di Marco Aurelio una cosa che avrebbe credo sfiancato chiunque ad ogni modo morta la moglie stabilizzata la zona orientale Marco Aurelio tornerà in occidente organizzando prima una nuova campagna contro i Sarmati nuovamente respingendoli e riacquisendo i prigionieri e il bottino che erano stati fatti durante la razzia di Eleusi e della Grecia e poi organizzando per il 179 una nuova campagna contro i Marco Manni sulla carta Marco Aurelio era già vincitore sulla carta sappiamo che dal 176 aveva iniziato a definire la Germania come capta ce l'abbiamo su alcune monete ed era stato addirittura indetto un trionfo per questa sua vittoria trionfo di cui ci resta qualcosa ci resta una statua di Marco Aurelio a cavallo la vedete qua è quella che si trova adesso in Campidoglio all'epoca pare che fosse stato costruito anche un grande arco di cui invece ci rimane pochissimo solo qualche fregio purtroppo quest'ultima sua campagna non la porterà mai a termine perché proprio alla fine del 179 cadrà malato il 17 marzo del 180 d.C. a Sirmio attualmente in Serbia morirà Marco Aurelio prima mentre stava progettando una nuova campagna si racconta che negli ultimi giorni reddosi conto del peggioramento delle sue condizioni davvero stoico decise di accettare la morte smettendo di mangiare smettendo di bere rifiutando qualunque medicina per accelerare la morte e raggiungere l'inevitabile d'altronde la successione se l'era già assicurata dal 177 infatti aveva deciso di sciogliere definitivamente il nodo su chi dovesse succedergli si era fatto affiancare come coimperatore dal figlio comodo iniziando a dargli sempre più potere nonostante pare non apprezzasse particolarmente questo figlio che era molto più interessato ai giochi nell'arena piuttosto che alla gestione dell'impero e il 17 marzo del 180 d.C. spirò lasciandogli l'impero si dice che in realtà la sua morte sia stata anche accelerata dai medici per opera proprio di comodo un'ipotesi che ha portato a quella versione in cui comodo uccide Marco Aurelio che vediamo del gladiatore ma di questo ovviamente non ci sono prove pare che Marco Aurelio nei suoi ultimi istanti di vita avessero raccomandato comodo di portare a termine quella campagna che lui aveva progettato come andrà lo vedremo ovviamente nella prossima puntata fra due settimane Marco Aurelio moriva e con lui moriva probabilmente uno degli imperatori diciamo più incompleti della storia dell'impero un imperatore che aveva vissuto una vita da filosofo una vita da amante della pace l'ho già detto più volte una vita di uomo che cercava di portare all'interno dell'impero i suoi ideali ma che dall'altra parte una volta intrapresa la via della guerra aveva non solo cercato di respingere i popoli barbari ma aveva cercato di portare la guerra in quei territori tornando ad espandere l'impero e chissà che cosa sarebbe potuto succedere se fosse vissuto ancora qualche anno portando a termine proprio la conquista dei territori dei marcomanni e dei quadri forse è creato un nuovo Limes forse quelle province sarebbero state abbandonate nei turbolenti anni successivi non lo sapremo ovviamente mai ma come sempre è bello immaginare bene io mi fermo qua spero che questa pidola vi sia piaciuta ho cercato di raccontare tanti avvenimenti senza approfondirli troppo come sempre quando si troviamo davanti a un imperatore così grande è importante capire un po' lo spirito dei tempi scoprire che cosa sta avvenendo è ovvio che però se paragoniamo quello che vi ho raccontato della vita di Marco Aurelio da una parte e della vita di quello che poi era suo predecessore Antonino Pio potrete vedere come i due imperi sembrano uno l'ombra dell'altro da una parte un impero praticamente onnipotente quello di Antonino Pio dall'altro un impero che pur vincendo fa fatica a rispondere ai colpi che i barbari gli mandano che i parti i barbari gli mandano in questo caso ancora pur vincendo ma la peste Antonina ha dato un colpo veramente molto pesante i cui effetti li vedremo ancora negli anni successivi un indebolimento dell'impero che ovviamente non permetterà probabilmente mai più di tornare ai fasti del vicino passato ma ripeto di questo ne parleremo nelle prossime puntate io mi fermo qua spero che questa pillola vi sia piaciuta se volete potete riascoltarla qui o potete riascoltarla sul nostro podcast lo trovate in descrizione potete chiacchierare con noi di storia proporre nuove pillole potete farlo sui nostri social su Instagram su Facebook potete farlo sul canale Telegram e ovviamente se non lo siete già potete iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per non perdervi più nessuna delle nostre pillole come al solito l'importante però è essere curiosi soprattutto con pillole come questa che raccontano tanti avvenimenti che volendo possono essere approfonditi magari lo faremo in futuro ma se volete potete farlo anche voi ci sono tantissimi libri che parlano di questo periodo come vi dicevo però l'importante è essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con la nuova pidola di storia e tra due settimane per raccontare il figlio e successore di Marco Aurelio cioè Commodo e la nuova pidola di storia e la nuova di storia